Buongiorno poracci, ben svegliati. Mentre registro questo video è notte fonda e Min Min è appena stata giunta al roster di Super Smash Bros Ultimate, sono curiosissimo di provarla e voglio lasciarvi in compagnia di qualche primo match in cui inizia a prendere confidenza col suo moveset. Magari chi è ancora indeciso se acquistarla o meno, o perché no, proprio se prendere tutto il Fighter's Pass, potrà trovare in questo video qualche dettaglio in più rispetto alla presentazione del buon Masairo Sakurai. Per un commento più a freddo e per provarla tutti quanti insieme, l'appuntamento è questa sera sul sito Viola a partire dalle 21.30. Vi lascio il link in descrizione, passate che ci sarà da divertirsi. Tra una scazzottata estendibile e l'altra mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per darmi una mano nella crescita del canale. Poracci, buona visione. Io sono il Poro Michele, devo dormire. Ciao! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 4, 2, via! Ah! Oh! 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 Yeah! Yeah! Come! Hey m웅! Hey mw! Jęna B我跟你講! Tấm ca! Hey mw! Hey mw! Tấm ca... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.